ciao a tutti ragazzi raccomi qua sono megaticker quest'oggi davanti a me o due miei amati controller della playstation 5 e due pacchettini della extreme raid cosa c'è all'interno di questi pacchetti l'avrete visto nel titolo e per chi non fosse a conoscenza di questi oggetti vi voglio far vedere appunto a cosa servono di fatto sapete che il controller ha un input spalmato su tutta questa corsa immaginate da 0 a 100 in questo spazio ebbene sì negli sparatutto abbiamo bisogno di un input molto rapido di solito si ricorre a quelli che sono i trigger stop ossia delle levette che meccanicamente vanno a bloccare la corsa del nostro trigger una soluzione sicuramente valida ma io sinceramente preferisco gli air trigger i trigger digitali perché di fatto annullano quasi completamente la corsa e trasformano l'input da analogico a digitale ossia non c'è più lo 0 1 2 3 fino a 100 ma c'è un input 0 1 0 1 0 1 on off ovviamente questo si traduce in immediatezza di sparo vedete questo questo è un aim controller io scommetterei un occhio della testa anzi in realtà come vi già avevo promesso farò un tear down di questo lo andrò a smontare del tutto ebbene sì qui abbiamo un input digitale sentite qua e guardate come poco si muove il nostro trigger come dicevo sono convinto che loro hanno adottato la soluzione in colla con la caldo in colla switch eccetera una soluzione molto casalinga on made mentre invece extreme rate zitta zitta si è creata dei kit che adesso andremo a vedere kit per playstation 5 e kit per controller della nostra xbox questo però lo mettiamo da parte lo andremo a montare un'altra volta andiamo quindi un attimo ad aprire il nostro pacchetto per trovare in tutta la sua semplicità da cosa è formato il kit ma anche da tutta la sua genialità ebbene sì perché loro hanno messo dei tappini e delle levette per andare a bloccare quella che è la corsa del trigger e poi hanno costruito ad hoc una scheda elettronica da andare ad installare direttamente nel nostro trigger ecco qui quindi che non dovrete più mettere nulla con la colla caldo non dovrete più fare a croc intorno al trigger per andare a legare i contatti elettrici che non userete qui extreme rate in queste schedine elegantissime carinissime ha installato due switch sentite che vanno appunto a fare il comando del trigger e del bumper ricordo che la in controller io per esempio ho messo solo i trigger digitali bumper costavano non l'ho voluti mettere non mi sembravano comunque essenziali spendere i soldi qui con qualcosa intorno mi sembra ai 14 euro potrete andare a fare un full digital sul vostro controller mettiamo un attimo da parte comunque i pezzettini andiamo come sempre a prendere gli attrezzi del mestiere l'unica cosa che vi consiglio che extreme rate non dà ma vi consiglio vivamente di utilizzare sono un paio di pinzette sì perché ci sono dei contattini talmente piccoli che spesso sicuramente viene bene usarle andiamo quindi a smontare il controller per chi non avesse visto queste modifiche queste che vedete in alto a destra vi lascio il link in modo che magari se adesso che velocizzo il tutto non capite qualche passaggio lo potrete andare a vedere negli altri video iscriviti al canale ok ragazzi abbiamo smontato tutto avete visto tutto velocizzato ripeto e negli altri miei video andate in modifiche controller troverete dei video dove magari ho fatto vedere più lentamente i passaggi ad ogni modo sono un po di viti da svitare nulla più mi raccomando molta attenzione quando levate questi connettori e adesso andiamo a fare la modifica vera e propria come vi dicevo non dovremo più andare a fare accrocchi su questa parte che è la scheda elettronica originale perché extreme rate ce la fornisce esattamente uguale da andare a inserire al suo interno andiamo quindi ancora ad aprire il nostro motorino per scoprire gli ingranaggi che ci sono sotto e accedere al nostro alla nostra schedina del trigger e del bumper le viti sono quasi tutto uguali ma vi consiglio di metterle da parte a gruppetti in modo da poi ricordarvi anche numericamente dove metterle levo un attimo anche questo gommino lo metto da parte c'è ancora una vitina di qui sono 4 in tutto come avete visto e adesso possiamo andarlo ad aprire eccolo qua guardate per chi non avesse mai visto il meccanismo quello che fa rendere adattivo il nostro trigger andiamo a toglierlo ok a questo punto possiamo andare a prendere il nostro ferretto quello che tiene il trigger attaccato lo togliamo andiamo a togliere il nostro trigger ed ecco lì che spunta il meccanismo se così si può chiamare analogico quindi due gommini e una schedina elettronica che andranno rimossi uno e anche la nostra schedina elettronica originale andrà rimossa ragazzi fatelo con molta attenzione perché poi io su amazon lego a extreme rate si è rotto subito si è rotto qua lassù giù se fate con attenzione mi raccomando queste schedine non si rompono è ovvio che se andate a strappare tutto con violenza beh sono schede elettroniche sono soggette sicuramente rottura vado quindi a prendere quella della extreme rate come vedete non ha più i contatti ma gli switch come vi dicevo ne prendete pure una caso perché sono identiche e andiamo a inserire molto delicatamente all'interno del nostro meccanismo eccolo qui alloggiato a questo punto mettiamo un attimo da parte questi andiamo vi ricordate che c'era dei pezzettini di plastica iniziale li andiamo un attimo a staccare se rimanessero delle bave considerevoli ma mi sembra di no dovremo andare a pulire i nostri pezzettini di plastica questi sono per i trigger mentre invece questi cappuccetti questi tappini sono per i bumper bumper che come vi dicevo le altre case sono solite tappare tappare il buchino che poi andrete a vedere con della colla a caldo qua invece abbiamo quattro tappini in realtà extreme rate offre sempre materiale in eccedenza ne serviranno solo due ad ogni modo l'ho già staccati li vado a mettere qui e vi faccio appunto vedere dove vanno inseriti r1 vedete che qui c'è un buchino ebbene io prendo uno di questi tappini e ce li vado a conficcare dentro ovviamente lo mandiamo fino in fondo fate un po di pressione senza eccedere il tappino va fino in fondo questo è lo spessore e il tappo che servirà per far funzionare il vostro r1 stessa cosa ovviamente andiamo a fare nell'altro tasto l1 buchino lo andiamo a tappare e voilà anche di qui siamo pronti di fatto dobbiamo tappare perché questo è il punto di contatto che andrà a schiacciare il nostro switch questo bianco passiamo quindi ai trigger vedete che qui ci sono due buchini aspettate ve lo faccio vedere col cacciavitino un buchino e l'altro buchino dovremo prendere uno di questi pezzettini e andarlo a inserire in quei due buchini la difficoltà più grossa ovviamente è la dimensione dell'oggetto ad ogni modo lato alto guardando per così il nostro trigger quindi girato da questa parte dovrà essere questo vedete qua c'è una discesina di fatto c'è un pezzettino spiovente che sotto invece non c'è dovrete andarlo a inserire in questa maniera eccoci qua una volta messo dentro lo andiamo a spingere come nell'altro caso fino in fondo a questo punto possiamo andare a inserire il nostro trigger al suo posto quindi vedete qua c'è una linguetta andiamo a scavallare a buttarla dentro mettiamo il nostro trigger in posizione una volta che i buchi sono allineati non dovremo far altro che andare a reinserire il nostro cilindretto metallico andiamo un attimo a vedere se il trigger preme lo switch sotto direi di sì e quindi andiamo a chiudere il nostro meccanismo qui c'è da fare una piccola attenzione al montaggio della rotellina fate esattamente come faccio io quindi prendete questa mezza luna vedete che il meccanismo ha del denti qua sopra tenete la parte bassa rivolta verso di voi e quindi andate a inserire il vostro meccanismo in questa maniera parte tonda verso di voi così facendo poi quando andrete a mettere il martelletto non so come chiamarlo si andrà a incastrare perfettamente come vedete in questo punto questo è il modo giusto per inserire il nostro meccanismo all'interno del trigger adattivo vado a chiuderlo mettiamo le nostre vitine chiudiamo tutto e passiamo al passaggio successivo ok passaggio successivo che si riassume mettendo questa schedina all'interno del suo contatto vedete la schedina è bella rigida viene bene va dentro che è un piacere non dovrete quindi più andare a fare accrocchi legarla da qualche parte mettere schedine finte lì insomma se avete visto il tutorial su quello che si è fatto finora noterete la semplicità e la qualità del kit extreme rate stop questo è pronto lo andiamo quindi a rimettere al suo posto due vitine anche da questa parte e siamo pronti a passare a quello di sinistra la lavorazione è esattamente la stessa di prima andiamo a svitare quindi sganciare grazie direi semplicità assurda veramente i kit dell'esternate sono fighi perché sono anche molto semplici da installare in realtà poi quello dell'xbox andranno fate due saldaturine poi ve lo farò vedere ma nel caso di playstation guardate che figata che meraviglia voi non dovrete andare a saldare nulla trigger funzionante io sento il click voi no vado a metterlo sotto al suo posto mi vado a dare una vittatina a questo punto non ci resta che tornare alle condizioni originali rimontare tutto il controller e ovviamente provarlo ok ragazzi abbiamo rimontato il nostro meccanismo i trigger adattivi che non sono più adattivi ma sono diventati digitali ovviamente avrei dovuto dirvelo prima fate molta attenzione a non strappare questi fili che sono quelli del motorino di vibrazione andiamo a riprendere la nostra scocca qui anteriore e adesso dobbiamo andare a ricomporre il tutto vado a mettere questo qui fate attenzione che questo contattino passi da questo buchino è molto più semplice che nel controller della playstation 4 dove questo era veramente difficile da far entrare ricorrevo sempre un piccolo accrocchietto assicuriamoci importantissimo ragazzi assicuriamoci che questa scheda sia in questa posizione dentro i due buchini perché a volte viene fuori voi chiudete tutto non funziona più niente e mi mandate 80.500 messaggi per chiedermi come mai il tutto non funziona devo andare a ricomporre anche questo giochetto di plastiche di fatto molto semplice vado a mettere le mie due vitine dopo aver messo queste due viti e tutto quanto ricordiamoci perché io mi stavo già scordando di mettere questo oggettino qui dentro allora dobbiamo metterlo in modo che sia così una volta ribaltato quindi andiamo di qui lo inseriamo all'interno a questo punto ribalto il tutto faccio attenzione che tutti i contattini siano all'esterno di dove devono essere vado a fare una piccola pressione e ora come prima cosa direi di mettere due vitine qui che mi vado quantomeno a fissare le parti di plastica e poi inizio a rimettere tutti i contattini al loro posto inizio da questo qua piccolino non c'è un ordine ragazzi fate come meglio vi mette uno messo questo qui che è molto corto però è molto rigido quindi non dovreste avere problemi a maneggiarlo le ultime parole famose ragazzi adesso stiamo qua fino a dopo domani no in realtà no dai ci ho messo solo 15 minuti io ve l'ho tagliato no non è vero ci ho messo poco andiamo a prendere quelle le padellone dei nostri trigger e le mettiamo dentro un po come vogliamo io lo faccio a mano se voi vi trovate meglio a farlo con le pinzette nessuno vi vieta ovviamente di scegliere il modo che più più vi aggrada importante che siano belli messi fino in fondo che non strappiate i contattini e che il controller sia pronto alla fase successiva sportellino qua della batteria con l'ultima vite che tiene il nostro controller compatto non scordatevi anche questo mi raccomando lasciate sempre tutto vicino a voi così almeno mentre rimontate vedete i pezzi e non fate come faccio io quando smonto le mie moto mi resta sempre qualche vite e dico va bene non sarà utile non mi servirà e poi prima o poi invece pagherò il conto ok direi messo anche questo questo qui è uscito un pochettino lo rivado a mettere nella sua sede ecco qua niente di più semplice di fatto sono tutti degli incastrini vado a mettere la mia batteria collegamento a tre fili non so se ci avete fatto caso ok messa anche questa è a questo punto davvero non ci resta che chiudere il nostro controller montare dopo i bumper e provare che tutto funzioni ecco ragazzi dopo qualche click it lock il controller di fatto è finito dobbiamo andare a mettere le nostre quattro vitini a chiuderlo del tutto dopodiché bumper e striscia decorativa ok messe le quattro viti mettiamo la nostra striscia decorativa striscia decorativa che vi ricordo essere anche essa della extreme rate la trovate su amazon qua nei dettagli lascerò tutti i link di tutti i pezzi che vedete compresi i tasti il touchpad insomma tutto quello che vedete di diverso su questo controller vado a mettere i miei bei tastoni i miei bei bumper e il controller di fatto è pronto per andare in battaglia ok ragazzi prima di passare alle conclusioni volevo farvi vedere una piccola cosa sulla playstation da selezionare allora come vedete intanto i nostri trigger funzionano assolutamente la corsa come vi volevo far vedere è molto breve con evidenti vantaggi qua in fase appunto di sparatutto anche i bumper funzionano eccoli qui la manata dello stregone spammandola rapidamente ma una cosa che consiglia extreme rate appunto di andare nelle impostazioni della playstation quindi da impostazioni andare su accessibilità controller e dove c'è scritto intensità effetto grilletto invece di forte mettere disattivato questo perché ovviamente i grilletti non hanno più la funzionalità di trigger intelligente non verrà il motorino anche se gira non potrà muovere la nostra levetta che come vedete è bloccata a quell'uno due millimetri di corsa e quindi dovete essere consapevoli che avete rinunciato alla funzionalità tipica del dual sense una particolarità come vedete ho due tasti uno nero uno rosso non ve l'ho fatto vedere ma ho fatto un po di prove e ho capito che in realtà avevo dato un'informazione un po sbagliata vi avevo detto appunto di spingere fino in fondo questo pernetto nero e invece se lo fate di fatto non essendoci più questo spessore qua sotto e quindi il tasto non va appoggiare più su alcun elemento se lasciate troppo spazio il risultato è che il tasto diventa un po ballerino nulla di grave ripeto il tasto funziona alla perfezione però se scuotete il controller come sentite un leggero rumore magari a qualcuno potrebbe dar fastidio ebbene se invece di spingere con l'attrezzino il vostro pernetto all'interno lo spingete solo con il dito con la forza che avete nel dito della mano resterà un po più esterno e il risultato appunto che il tasto come vedete è molto molto più fisso sentite che non fa rumore mentre invece questo qua lo fa perché ripeto è semplicemente un po più staccato stessa cosa vi volevo dire per i trigger è vero quanto ho detto prima che più buttate dentro questo pezzettino di plastica più avrete corsa del trigger stesso però ho visto in fase appunto di test che se lo mandate tutto dentro come ho fatto io di fatto poi il trigger va troppo in avanti e tende a bloccarsi a tornare male indietro quindi di fatto alla fine del video vi dico fate le cose a mano non prendete attrezzi inseritelo con tutta la forza che avete state pur certi che non riuscirete a mandarlo fino in fondo come ho fatto io che invece ho usato un attrezzo diciamo che questa è l'unica tra virgolette criticità che posso segnalare nell'installazione di questo kit il kit è piuttosto semplice da montare e quindi in realtà io lo posso consigliare anche a chi non è tanto esperto ovviamente sappiate che se aprirete il dual sense verrà vanificata la garanzia bene ragazzi facendovi vedere qual è stata la differenza di inserimento del pernetto quindi roba veramente millimetrica io sono al termine del video non posso fare altro che ovviamente consigliare questo prodotto costa veramente poco mi sembra intorno ai 14 euro comunque vi lascio il link in descrizione è un kit che poi si andrà aggiungere col kit che tutti stiamo aspettando sempre il string rate del remap due tasti aggiuntivi rimappabili a quel punto quando ce lo avremo tra le mani ovviamente io lo porterò sul canale lo monterò e di fatto avremo un controller che nulla avrà a che invidiare a una im controller per oggi è tutto ricordatevi registrarvi accendete la campanella perché molti video interessanti arriveranno sul mio canale se giocate a fortnite codice megaticker per supportare il mio canale così come acquisti tramite il link amazon che troverete in descrizione sempre a scopo di supportarmi un saluto a tutti qua megaticker ci vediamo alla prossima e ciao